Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Forte Oggi sono qui per mostrarvi una partita veramente assurda Per certi dati anche strana Ovvero abbiamo fatto 47 kill di squadra raga L'unica cosa che mi dispiace che noterete nel video è che parlerò in stile ASMR Per questo invece fatto che era veramente veramente tardi E non era delle mie intenzioni di registrare quell'ora Visto ciò spero che il video vi piacerà Fatemelo sapere nei commenti e ci becchiamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ok Giojo, ehm, yes, follow the, eh I mean, how do you say a yellow in your language? Giallo Yeah, eh, Giojo, follow the, yeah Yellow Yellow, yes Hey man, I practice, I tell you, I try Ok, io spero di averne qualcuno qua lago Ok, 1, 2, 3 Ok, 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 ok Oh what the hell wow 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 calm the fuck no no Jojo come here ah yes take it perfect okay let's go oh over here Jojo right in front of you no nice nice Jojo come here behind you behind behind right uh Jojo over here behind you yes uh square I mean how do you say square in your own language no no man he got it he got it no 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 it's okay it's okay yeah it's okay è ok, è ok, è ok, un totale ok, ok 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 over here oh, andiamo what the fuck over here over here yes i got you, i got you, don't worry no ok ok no, it's ok, don't worry oh, come back, come door ok ok can I see, thanks um ok, where the hell is this camper oh my god ok 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 there we go ok 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 oh 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 what the fuck what the fuck no no fuck oh how you would n***** oh, nice i have total skills i have 3 i have 3 wow don't worry n***** ah n***** um, Jojo you'll get you, i told you man you'll get better you must play everyday Fabri per il J2 Ok We can do that Fabri I tried to find an emote right now Just for a joke There we go Ok Man focus, we must do the record I am And just f*** around and focus at the same time Ok No you don't resave bro Pfff Pfff 10, 26, 29 kill Ok Ok I tried to find You know I did all of the sabbages I have also 12 kill I have to move What? On Siepi, I'm going to Torrey Let's go to Torrey Fabri I'm here I'm a little bit on Talina Ok Ok I'm trying to find I'm No joke Over here How are you? How are you? I'm here Yes 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 vado un attimo a corallo, vediamo se ci vuole credevo di ci sia cagare notti a can't find anyone cdc cdc cogo spasmo una coraggio e poi vado a parte orginal orgaria margaret ammichael andrews iso nonostante posto non è perfetto tanto stiamo ancora giocando ok, ho trovato gente dove? sono quasi a torre ok ancora non c'è mai incredibile e anche da noi what the fuck ok, vado a parco oh 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 ma che laggato? no, ma che nemmas oh, maserato una laggatona che è? it's weird, I can't find anyone ok no, mi sta laggando, mi siferò un personaggio ma che mi stanno trevellando me sto giù giù he's driving, he's driving in a borsa io sto passando la torre e a me, mi si appena di giù non c'è no, ma che non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ok, dobbiamo cercare non c'è non c'è non c'è non I got 2.4 I got 2.4 Oh, there we go Knocked Nice, Jojo Yeah Right here Jojo, rave Right there, yes Okay, I got No, Jojo, it's okay I got him Ah, but Jojo, go for her Yes Yes For you Right there Thank you They're not going to sub these two Where did you go? Now, where did you go? Safe, safe, safe No, no, I'm kidding Jojo, come Nice Oh, oh, oh No, no, no Shadow 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 No Don't worry I got you, man Oh, what the No, Shadow No No, it's okay, don't worry Be happy Don't worry Suicide Suicide Yojo, no I'm so close to him And he bent down the waterfall I'm so close to him And he bent down the waterfall Oh, oh Oh, oh There's No, Jojo, that's too far Yeah, you cannot hit with that No There's the spook There's the bush No I was being stupid I should Wait, wait, wait I should've Wait Nice 45 45 Oh I can't do it What? Shit Do you want to find this situation? Now it's enough to win Go We'll meet In safe We'll wait In the middle In the middle No, Jojo You must pick up the card Oh, okay It's okay, it's okay, don't worry We won anyway One other Bastion left 5 5 5 5 5 5 Tu lo sai vero? Che per due Non facciamo 50 kill 50 kill Eh, lo so Geet Adesso ci sfascio Ci sfascio Vai, uno tu o uno mio Vai, uno tu o uno mio Vai, uno tu o uno mio Ma dove però? Eh, non lo so dove sono No, adesso compariranno Ok, uno mi sta sparando Mi sta sparando Dove? In realtà non lo so Ah, ok, hai visto Ma... Ah, io ho chiedato una Dove era la seconda? Eh, è morto per la safe, mi sa Oh, ragazzi Dopo tutte le check-inate sbagliate Almeno... Un'entrata l'ultima Io ho 21 ragazzi 21 più 38... 41... 47 l'abbiamo fatta 47 kill Buono Nice GG, ragazzi 47 kill Yes 47 kill How many? 47? Yes Yes Holy shit Yes It's Anาย